mamma mia che schifo veramente cioè si è vinto per miracolo perché hanno sbagliato il rigore e poi ha fatto due parate una parata bellissima tra Ungoschi e il colpo di testa di Godin allora per la vittoria sono contento perché comunque il gol di Vlaovic non è brutto un passaggio di Kaijon ma come si interpreta la partita finale prima del gol di Vlaovic è scandalosa perché noi non abbiamo fatto nulla ma è stata una partita orribile ma ragazzi ma i primi 15 minuti pareva di essere nella box con l'Ioianis ha preso un calcione da Pulgare e una testata da Cazares ma di cosa stiamo parlando pareva veramente la box quei primi 20 minuti del primo tempo ma poi maremma miseria ma contro il Cagliari che erano dei morti il Cagliari oggi dovevi giocare molto meglio però la fine della vittoria rimane anche se non siamo usciti dalla lotta retrocessione perché siamo solo a più 6 si respira un attimo perché ora c'è il Napoli è quello del problema più grave e poi c'è il Crotone non è sconto diretto quello perché Crotone è ultimo però io dico Prandelli ancora non ha capito che la Fiorentina deve giocare a 4 dietro 4 a centrocampo e 2 in attacco perché Vlaovic da solo Vlaovic da solo non può giocare non può giocare Vlaovic da solo non può giocare perché giocare contro Godin e contro Valuchiewicz che sono più di un metro e 90 Vlaovic da solo non può poi maremma miseria lo vogliamo capire o no? che c'è gente che non può giocare come Venuti che non serve a nulla non serve anche se è entrato domani non serve a nulla veramente ma la cosa più grave è che si è rotto Pezzella e quindi dovrà giocare Martina e Squarta insieme a Igor e Milenkovic anche se la difesa oggi ha fatto bene anche se sul tiro di Drongo quello lì sul tiro di Deviato ha fatto una paratona a Drongoschi ma poi il Cagliari ha creato solo l'occasione a un Godin non è che poi abbia fatto il sa cosa ah e poi forse il pallonetto di Simeone ma il pallone è uscito di non tantissimo ma nemmeno di poco meno male si è vinto ma così è veramente vergognoso perché con il Cagliari si dovevamo mangiarli vivi e ora c'è secondo me il modulo giusto appunto il 4-4-2 con Drongoschi in porto ovviamente confermato a destra metti Casares centrali metti a questo punto quarta e Milenkovic a sinistra metti Piraghi centrocampo a due metti Castroviglia Amrabat destra Kayakon sinistra ecco gli a sinistra andrebbe messo Riveri quando rientra perché ora si è fatto male al ginocchio e davanti Wame e Vlavic è molto meglio come formazione invece di vedere Piraghi esterno sinistro che non è il suo ruolo del tutto Piraghi è un terzino sinistro che dovrebbe a noi ci manca quando noi si attacca ci manca il terzino sinistro che va in sovrapposizione dell'esterno sinistro come dall'altra parte a destra non può fare tutta la fascia a quel giocatore che gioca a destra come esterno barra terzino ci manca proprio quel ruolo cioè ci manca il modulo deve essere cambiato il modulo secondo me perché allora lì si ragiona perché tu hai più spazio per attaccare e crei molto di più invece di fare catenaccio quasi Drongoschi migliore in campo para il rigore e salva la Fiorentina con una parata pazzesca 8 8 grande drago sei sempre il migliore Vlaovic grande prova ancora del talento serbo che segna ancora ragazzi veramente ha segnato la Juve ha segnato la Lazio ha segnato ora il Cagliari mi sembra 5 gol nelle ultime partite cioè insomma sono numeri importanti poi ricordo con il Verone e con l'Olza solo 5 gol nelle ultime 5 partite per Vlaovic e insomma si iniziano a far sentire i numeri di Vlaovic anche lui grande prova 7 e mezzo non perché abbia fatto meno di Drongoski ma Drongoski è un portiere quindi ha più responsabilità e ha salvato la partita proprio per quanto riguarda peggiori non è che posso dirgli però mamma mia oggi veramente cioè non esulto però è importante la vittoria ma non posso esultare dopo una partita così orrenda piena di scontri pareva box veramente mamma mia comunque io devo dire che il Cagliari ha messo malissimo più 2 sul Genoa e scusatemi più 2 sul Parma cioè ragazzi non si salva il Cagliari se continua così noi ci vediamo dopo con Juve Sassuolo e domani sera con Spezia Sampdoria meno male se è vinto ciao a tutti